adesso diventerai uno squalo uno squalo se tutti lasciate un mi piace e vi iscrivete al nostro canale in tre secondi anto diventerà uno squalo tre due uno non ci credo vai sott'acqua allora controlliamo anto vinci che c'è hai tre tentativi per riuscire a scoppiare questo palloncino nessuno ci riesce se tu ci riesci tutti si iscriveranno e lasceranno un mi piace ok ho tre tentativi proviamoci ho sbagliato ok riproviamoci riproviamoci questa volta ci riesco mi dispiace l'ultimo ok ci riesco questa volta tre due uno l'ho scoppiato bravo iscrivetevi e lasciate un mi piace cosa succede apri la porta ok cosa succede vinci c'è catnap qui fuori nel nostro giardino c'è catnap ma dove guarda vinci che c'è questo effetto è impossibile nessuno ci riesce se tu ci riesci tutti si iscriveranno e lasceranno un mi piace provaci ok ci provo tre due uno si devo far entrare tutto ma è solo l'inizio ok questo caricatore si cosa devo caricare un telefono tre due uno si ok adesso si l'ultimo non ci posso credere l'ultimo una rosa oh oh si wow 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 wow